Telefonate truffa per i vaccini a Torre del Greco. Secondo alcune segnalazioni giunte alla nostra redazione, alcuni cittadini avrebbero ricevuto delle telefonate a casa in questi giorni. L'operatore al telefono avrebbe chiesto alle persone contattate di recarsi agli uffici della protezione civile per compilare alcuni moduli relativi ai vaccini. Non c'è nessuna procedura in atto, in tal senso noi come strutture di contrariato di protezione civile non telefoniamo, non facciamo inviti e tantomeno siamo autorizzati a poterlo fare. Pregherei attraverso la vostra emettente, mi rivolgo ai cittadini che dovessero ricevere telefonate del genere, di avvisare subito le forze dell'ordine. Quindi è possibile che questa sia una truffa, soprattutto per i cittadini anziani? Io mi auguro è proprio per questo che questo non avvenga e faccio appello, ulteriore appello ai cittadini anziani e chi gli sta vicino di segnalare ulteriormente alle forze dell'ordine eventuali arrivi di telefonate del genere. È possibile quindi che le telefonate siano un modo per allontanare le persone, principalmente anziani, da casa per poter agire indisturbati con truffe o furti. Per questo consigliamo di contattare immediatamente le forze dell'ordine qualora si ricevesse una telefonata del genere e di non muoversi da casa.